Una breve fotografia di Thales, chi è e quali sono gli ambiti tecnologici di riferimento? Thales CPL è la divisione che si occupa di Cyber Security all'interno del gruppo Thales, soprattutto a valle dell'acquisizione di Gemalto ad aprile del 2019. La focalizzazione rimane concentrata sui tre aspetti a noi cari, a noi tradizionali negli ultimi anni, quindi Identity Protection and Access Management, Data Encryption sia a livello networking sia a livello data center e infine tutta la parte afferente alle crypto appliance per abilitare i progetti di encryption. Oggi siamo qui a casa di Arro, che tipo di partnership avete in essere con questo distributore a valore, come si sta sviluppando e quali ritenete siano i plus di questo VAD? Sicuramente è una collaborazione di lunga data, direi credo 15 anni. Per me è la quinta università a cui partecipo. Prima ho partecipato come SafeNet, poi come Gemalto, poi ora come Thales, in virtù delle acquisizioni che ci sono state. La collaborazione nasce secondo me su due aspetti molto importanti. Da un lato la competenza, quindi la conoscenza da parte loro delle nostre soluzioni estremamente verticali in ambito crittografico e dall'altra la capacità di essere percepiti sul mercato della sicurezza come un distributore a valore e quindi di metterci in contatto con i partner giusti. Lei ha detto siete la quinta Arro University. Quanto è importante per un vendor come voi prendere parte e partecipare a un evento di questo tipo? È un'occasione estremamente importante perché è uno dei momenti durante l'anno più importanti per incontrare partner sicuramente molto ben posizionati sul panorama italiano a livello di cyber security, incontrare quindi delle facce note con cui collaboriamo quotidianamente ma anche talvolta incontrare nuove opportunità. Grazie a tutti.